Durante uno dei suoi ultimi concerti Simba Larua all'uscita del locale si è ritrovato una massa di persone che hanno iniziato a fischiarlo e a insultarlo in varie lingue fra cui l'albanese ma anche il marocchino Si sentono infatti insulti come Kalewi che appunto significa coglione I motivi di questo gesto non sono ben chiari in realtà molto probabilmente mi viene da pensare che sia perché non si è fatto le foto con le persone all'uscita Ma questa qui è solamente una mia supposizione potrebbe essere semplicemente stato un gesto goliardico generale fatto così tanto per far casino Non aggiungo altro vi lascio filmati in modo che possiate giudicare voi stessi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Super 14 15 15 15 16